un provvedimento che punisca gli inquinatori e gli eco-criminali. Se vogliamo discutere di Ergan, facciamolo in altra sede, non adesso, non in questo momento cruciale. Non inquinate il provvedimento, non concedeteci un lusso che l'ambiente non può più permettersi, aspettare rinvii e riletture. La posizione politica del Movimento 5 Sterle, con inferimento al presente provvedimento, è chiara e precisa. Siamo favorevoli esclusivamente nella misura in cui il provvedimento non sia rimandato al Senato. Siamo fermamente convinti che questa legge debba essere approvata senza cambiare neanche una virgola, senza modifiche. La soppressione, la modifica o anche l'aggiunta di una sola parola al testo del provvedimento comporterebbe la necessità di un passaggio ulteriore al Senato e, conseguentemente, signifierebbe dare a tendere altro tempo per avere una soddisfacente tutela dell'ambiente che ci circonda. Grazie. Grazie a lei. Il Governo intende intervenire o lo fa in sede di replica? Sede di replica. Bene. A questo punto la parola è all'On. Bratti, il primo degli iscritti a parlare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'On. Basdoli credo abbia molto ben illustrato e inquadrato il tema di cui oggi discutiamo, spiegando anche in dettaglio quali sono stati e quali sono i punti fondamentali di questa legge, che devo dire con un grande impegno di diverse persone appartenenti al Partito Democratico, oggi è arrivato a questo punto. L'iter però non è stato un iter facile, è stato un iter complicato, lungo e ricco di insidie. Un provvedimento che ora è un passo, come veniva ricordato, per essere approvato in maniera definitiva. Il disegno di legge è stato sicuramente migliorato, credo, al Senato, nonostante sia stato introdotto un comma che riguarda la punibilità dell'uso della tecnica di perforazione nei fondali marini per la ricerca di drogarburi, denominata Airgun. Una tecnica che oggi è praticata in diverse parti del mondo, che causa la sua invasività, va certamente regolamentata attraverso un percorso di carattere amministrativo e non certamente andava in un provvedimento come quello in discussione oggi.